ok è partito che è sta cosa sembra una posta una busta di quelle coscritte hai vinto però poi devi comprare qualcosa alla fine va bene un'altra nata ma vedere che senso hanno allora penso che durerà più questo si sente praticamente hanno preso una lastra l'hanno dedicata poi ho messo 4 caramelle polo nere di dire ok metallo bello dovrebbe essere buono questo è l'altro oggetto ultimo c'è più qui dovrebbe aiutare il polso fracellarsi su quel coso di metallo riesco ad aprire che puzza madonna chi puzza di di plastica di qualcosa di vabbè passerà non penso che dura così tanto cioè che dura sempre pensavo peggio pensavo peggio pensavo peggio pensavo peggio tipo quella stoffa invece qui questa è tutta plastica per questo l'odore però non è per forza dove fare quell'odore comunque bello pensavo peggio bello lo userò anche per dormire non pensa tu ma non è che puzza ma importante che è comodo userò una maschera antigas finito quindi Grazie.